Inizia in questo momento Catania Inter, forza ragazzi! Palla dentro per Castro, molto vivace questo ragazzo, un rimpallo lo favorisce, attenzione pericolo, cerca il numero, può vedere la porta, parte il tiro, para, centrale. Palla ancora per Jonathan, può andare al cross, si prepara al centro Palacio, morbido e calibrato, cerca l'acrobazia! La palla va a lambire il palo, attenzione Leto, va da solo, Slalom, palla sul destro, nel suo piede taglia dentro per Bergessio, bravissimi! Attenzione Kovacic, prova a piazzarla, palla limite, il Guaro, si prova, Gianni, è solo, il tiro, miracolo, il miracolo, ancora Gianni, la palla in corner! Che partita ragazzi, palla gol per Jonathan! Guarin, sulla posizione di Jonathan, ecco l'ha ancora servito, Guarin va ancora dentro, ecco qua che ci si riprova, chiuso, salta al Miron, entra in aria, palla dentro Alvarez! Se l'è trovata troppo sotto i piedi! Torniamo a destra, guardalo, ecco Gianni, subito servito, va nella memoria ragazzi, attenzione Gianni, uno contro uno, punta l'avversario, gioco di gambe, finta contro finta, va sul fondo, entra in aria, venendo, è gol, 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 intressa, intressa, vora Gianni, vora Gianni! Gianni, che fa finta, contro finta, doppio finta, fintone, cross al centro, arriva, si pettina Palazzo per fare il gol dell'1-0 al minuto 20. Il cambio di gioco su Gianni, largo di cambiasso, crea l'uno contro uno, lui ne approfitta, guadagna al fondo e guardate il mestiere di Palazzo, che fa finta di rimanere basso, va a mettere un pallone con scritto spingimi Jonathan, ed è il gol del vantaggio dell'Inter, 20 minuti al massimino, Catania 0, Inter 1, grande giocata, grande giocata di squadra perché è stato proprio un movimento da destra a sinistra. Calcio di inizio per noi, 1-0 per l'Inter, un bel primo tempo, primo tempo che l'Inter chiude in vantaggio con merito, ma bene ha giocato anche il Catania, occasioni da gol per entrambe le formazioni. Riuto, guarda come va, veloce di gamba, pronto ad andare al cross, palla dentro, attenzione, l'anticipo su Ricchi, poi il colpo di testa di Palazzo, palla fuori per Guarin, si disturba con Jonathan, arriva di corsa a Campagnaro, contro cross al centro, Palazzo messo giù! La grande parata sul colpo di testa di Nagatomo, il miracolo, ma c'era il rigore su Palazzo, palla fuori, Taideri tribuna, c'era il rigore su Palazzo. E si genera la ripartenza, The Rock, oh oh, arriva, on The Rock. Palla di Guarin, palla buona per Jonny, attenzione, cerca di andare, profondità, Palazzo, palla buona, il cross, Nagatomo, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, Yuto gol, Yuto gol, come prima, più di prima, doppietta. Riguardiamo l'azione, guardate Jonny, vede il movimento di Palazzo, il cross, guardate là, è solo, è qua colpevole la difesa del Catania, Ma Yuto arriva bene a chiudere, non in due, e la mette di testa alle spalle di Mariano Andukar, per il gol dello 0-2. Palazzo e Nagatomo, come contro il Geno, forza ragazzi, 2-0 per noi, palla al centro. Castro allarga per Rolin, cross al centro, con i pugni, Samir allontana, palla ancora viva, contro cross, ancora Samir, il sinistro di Monzon, mischione con la palla che va in fondo campo. Poi in affanno la difesa del Catania, che adesso riprova con Ducará, che rischia una giocata al limite dell'area di rigore, non si fanno quelle cose, infatti gliela portiamo via con Belfodil, palla filtrante, Taider si va sui piedi, Andukar, occasione da gol, ancora per i nostri. Nagatomo sulla corsa, guadagna al fondo, attenzione, Palazzo, ancora atterrato. Palla per Nagatomo, spintonato, Palazzo voglio rivederla, palla dentro, ancora per Ricchi, carica a sinistro, il tiro cross, e c'è l'intervento di Andukar con i pugni che allontana. Ricchi cerca di saltare Rolin, se lo beve, adesso arriva al limite dell'area, cerca di andare, palla buona, Palazzo, il tiro, Belfodil, gol, è gol, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco di Belfodil, era il gol dello 0-3. Nagatomo, subito di prima per Ricchi, subito parte aiuto a correre da quella parte, Ricchi se ne va in accelerazione, arriva al limite, attenzione, Alvarez, 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 pala, è gol, è gol, è gol, è gol, Ricchi, 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 che azione, che gol di Ricchi, e che gol di Alvarez. Prende palla da Nagatomo, punta l'avversario, lo salta, vede il varco, va dentro, si allarga, e cambia sul palo lontano, è veramente un gran gol questo, veramente un gran gol, vanifica l'intervento di tutti, anche la chiusura generosa di Spolli alla fine, niente da fare contro questo Ricchi, meraviglia, e allora eccolo qua. Buona anche la seconda, cuore nera azzurri, Scarpini vi ringrazio per l'attenzione, i marcatori, Palazzo al ventesimo, Nagatomo all'undicesimo, Ricchi, meraviglia, che gol meraviglia, quello di Alvarez, il gol dello 0-3, tutti a casa, una buona Inter, una grande Inter direi. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...